I rituali associati alla mummificazione nell'antico Egitto erano complessi e avevano un significato profondo. Ecco alcuni dei passaggi principali, purificazione il corpo veniva lavato e purificato. Gli imbalsamatori rimuovevano gli organi interni, lasciando solo il cuore punto asciugatura. Il corpo veniva trattato con sali e sostanze disidratanti per rimuovere l'umidità. Questo processo poteva durare fino a 70 giorni imbalsamazione. Gli imbalsamatori riempivano il corpo con balsami e profumi. Il corpo veniva avvolto in bende rinascita nell'aldilà. La mummificazione permetteva all'anima di accedere all'aldilà. Si credeva che il corpo dovesse essere intatto per garantire la rinascita. Appunto questi rituali variavano a seconda dello status sociale del defunto. Ad esempio, i faraoni ricevevano un trattamento più elaborato rispetto ai cittadini comuni. La mummificazione era una parte essenziale della loro cultura e religione.La mummificazione nell'antico, Egitto era una pratica complessa e profondamente intrecciata con le credenze religiose dell'epoca. Gli antichi egizi credevano che una parte dell'anima dei defunti continuasse a vivere sulla terra dopo la morte, e per questa ragione conservavano i corpi tramite la mummificazione. Ecco alcune fasi chiave del processo. Viscerazione il corpo veniva affidato agli imbalsamatori, che lo portavano nel luogo della purificazione qui. Il corpo veniva accuratamente lavato e iniziava il processo di eviscerazione. Gli imbalsamatori rimuovevano il cervello attraverso le narici, forando l'osso etmoide e disidratazione dopo l'eviscerazione. Il corpo veniva trattato con sali e sostanze disidratanti per rimuovere l'umidità. Questo processo poteva durare fino a 70 giorni. Imbalsamazione Successivamente, gli imbalsamatori riempivano il corpo con balsami e profumi. Il corpo veniva avvolto in bende e posto in un sarcofago o una tomba. Rinascita nell'aldilà Gli egizi credevano che l'integrità del corpo fosse necessaria per accedere al processo di rinascita nell'aldilà. La mummificazione permetteva all'anima di K.A.I. di ritornare e vivere nell'aldilà. Questo procedimento non era uguale per tutti, c'erano varianti per faraoni, nobili e poveri. Tuttavia, l'arte della mummificazione rimane uno dei contributi più significativi dell'antico Egitto alla storia della conservazione dei corpi. Gli antichi egizi avevano una visione complessa dell'aldilà, che era strettamente legata alle loro credenze religiose. Ecco alcuni aspetti chiave. Duat, l'aldilà era chiamato Duat si credeva che fosse un mondo parallelo alla Terra, accessibile attraverso il passaggio tra la vita e la morte. Giudizio di Mat, dopo la morte, l'anima del defunto doveva affrontare un giudizio davanti a Osiride. Il cuore del defunto veniva pesato sulla bilancia di Mat, dea della verità. Se il cuore era leggero come la piuma di Mat, l'anima poteva accedere all'aldilà. Campi di Aru gli egizi credevano che i virtuosi avrebbero raggiunto i campi di Aru, un luogo di beatitudine e abbondanza. Qui avrebbero continuato a vivere, coltivando campi e godendo di cibo e bevande. Pericoli nell'aldilà tuttavia, l'aldilà non era privo di pericoli. Creature malvagie e prove attendevano l'anima. Era importante avere amuleti protettivi e conoscere gli incantesimi per superare queste sfide. Rinascita, la mummificazione consentiva all'anima di mantenere il corpo intatto per la rinascita nell'aldilà. Si credeva che l'anima potesse continuare a esistere e prosperare. In sintesi, gli egizi vedevano l'aldilà come un luogo di giudizio, ricompensa e sfida, dove l'anima avrebbe continuato il suo viaggio dopo la morte. Dopo la mummificazione, il corpo imbalsamato veniva posto in una tomba o un sarcofago. Tuttavia, la mummificazione era solo una parte del processo funerario egizio. Ecco cosa accadeva successivamente, processione funebre e il corpo veniva portato in processione verso la tomba. Parenti e amici partecipavano, i sacerdoti recitavano preghiere.sepoltura, il corpo veniva sepolto in una tomba o una mastaba una struttura a forma di trapezio. Le tombe erano spesso ricche di oggetti funerari, cibo, bevande e amuletti per l'aldilà. Giudizio nell'aldilà, gli antichi egizi credevano che l'anima del defunto dovesse affrontare un giudizio nell'aldilà. Il defunto doveva difendersi davanti a Osiride e altri dei. Se l'anima aveva condotto una vita virtuosa, poteva accedere all'aldilà. Vita nell'aldilà si credeva che l'anima continuasse a vivere nell'aldilà. Il defunto poteva godere di cibo, bevande e altre comodità, simbolicamente rappresentate tramite offerte postume. Offerte rituali parenti del defunto continuavano a fare offerte rituali di cibo e bevande sulla tomba per nutrire l'anima. In sintesi, la mummificazione era solo l'inizio di un complesso viaggio verso l'aldilà, in cui l'anima del defunto sperava di raggiungere la vita eterna.